In sintesi diamo uno sguardo alla situazione generale dei vaccini anti-Covid e Green Pass in Piemonte. Oggi è un giorno cruciale, è stato superato il traguardo di un milione di terze dosi somministrate, il famoso booster, e sempre da oggi partono le somministrazioni dei vaccini ai bambini. Il presidente della regione Cirio sottolinea con orgoglio che per le vaccinazioni pediatriche in Piemonte 14.000 famiglie hanno già iscritto i loro figli, ma sempre oggi, a poco più di una settimana dal Natale, scattano i controlli sui non vaccinati tra le forze dell'ordine e nel mondo della scuola, insegnanti e personale non docenti. Inoltre, poco fa, il presidente della Confese Centi di Torino ha chiesto al sindaco e prefetto di intervenire con urgenza per annullare la manifestazione dei No Green Pass prevista per questo sabato pomeriggio perché potrebbe interferire pesantemente con l'ultimo fine settimana di shopping prima di Natale. Quindi, sulla situazione vaccini in Piemonte, il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dal superamento del traguardo di un milione di terze dosi somministrate, oltre la metà di quel milione e 900 mila di persone che hanno maturato i tempi per la dose addizionale o booster. Sul fronte lotta al Covid è così già stato coperto con il booster oltre l'85% degli over 80% e anche del personale sanitario. La notizia però particolare è che sono scattati i primi controlli per i non vaccinati tra le forze dell'ordine. Coloro che non si prenoteranno entro cinque giorni rischiano, oltre alla sospensione dal servizio, anche il ritiro temporaneo della tessera, della placca e dell'arma in dotazione. Ieri a Torino, in Piazza Castello, sono stati effettuati controlli ai poliziotti mentre effettuavano un servizio per una manifestazione no TAV. Il controllo ai poliziotti non vaccinati è stato effettuato da loro colleghi. Naturalmente sono emerse subito le prime proteste sindacali per il sospetto che non sia stata tutelata la privacy dei controllati.